Dottor Claudio Damario, direttore generale della Direzione Generale Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute. Entriamo subito nel vivo. Il premio Conte ha parlato di fase 2 e fase 3. In effetti la curva pandemica sembra rallentare un po', la situazione sembra stabilizzarsi. Quale strategia sta mettendo in campo la sua direzione per affrontare questo periodo che poi seguirà la fine delle misure restrittive? Noi diciamo che stiamo avendo gli effetti delle misure restrittive. Il distanziamento sociale fino a questo momento è stata la misura più efficace per la gestione della pandemia. Del resto i virus si trasmettono attraverso i contatti umani, quindi questa cosa è sicuramente a tutt'oggi la migliore misura. Abbiamo questi risultati che cominciano a farci sperare, ma non ci dobbiamo illudere che questa emergenza sia ormai alle nostre spalle. Questo perché intanto abbiamo tre aree della nostra nazione con tre tipologie di diversa. Ad altissima intensità di circolazione che è la zona del nord, quindi dalle marche in su, abbiamo una zona a media circolazione nella quale siamo inseriti anche noi come regione Abruzzo e poi abbiamo una zona a bassa circolazione. Diciamo che questo coincide un po' anche con quello che sono le possibilità degli scambi sociali. Se andiamo a guardare anche nella distribuzione, i picchi più elevati si hanno nelle zone a maggiore incidenza di popolazione e anche a maggiore incidenza di abitudini sociali. Non per niente le aree costiere, se noi vediamo tutta la fascia da Rimini in giù, sono quelle molto più interessate rispetto alle aree interne, perché nelle aree interne le abitudini di vita, la possibilità già genetica di avere abitudini di relazione meno implementate, hanno facilitato il contenimento. Quindi ci sono delle aree cosiddette protette proprio perché in quelle aree c'è una minore circolazione e anche in quei paesi dove, pur essendo nelle aree ad altissima incidenza, la popolazione è molto residenziale, non esce fuori per lavoro, non ci sono ingressi per attività turistiche o scambi commerciali. Quindi dobbiamo tenere ben presente che a tutt'oggi questa in assenza di virus e di vaccini e di farmaci che sono ancora disponibili, il distanziamento è la regola fondamentale e lo sarà anche nei prossimi mesi, perché è vero che stiamo spegnendo l'incendio più grande che quello del nord, ma nelle regioni a media intensità come l'Abruzzo il numero di casi deve ancora aumentare. Perché? Per due motivi. Primo perché abbiamo aumentato la capacità di fare diagnosi, cioè l'aumento voluto dall'assessore e dal governatore della capacità diagnostica dei laboratori che sono stati inseriti nell'elenco nazionale degli accreditati per il Covid-19 ci ha portato ormai alla capacità di fare almeno mille tamponi al giorno. Quindi questo da una parte ci dà una possibilità di essere più precisi e di andare a studiare tutti i sintomatici e tutti i contatti. Si sta facendo un grande discorso anche a livello nazionale sui cosiddetti asintomatici, ma ci rendiamo sempre più conto che più che asintomatici ci sono persone con manifestazioni non rilevate, perché la perdita dell'olfatto, la cefalea o la febbricola spesso non vengono diagnosticati o rilevati. Ci sono persone che anche con una temperatura più elevata non percepiscono questa situazione patologica. Quindi sicuramente aumentando la capacità di diagnosi aumenterà il numero di pazienti, quindi non avremo una crescita ancora per almeno due settimane, proprio perché andremo a studiare un po' tutte quelle catene epidemiologiche che prima non studiavamo. Faccio un esempio, abbiamo per circa un mese sotto diagnosticato i focolai domiciliari, abbiamo isolato contatti o pazienti che erano in ricordo domiciliare, ma lì purtroppo il virus è circolato ed è circolato in un modo anche molto significativo. Quindi noi dobbiamo lavorare su due fronti, dall'altra continuare a allestire posti letto di terapia intensiva, dove dovremmo ospedalizzare quando possiamo tutti i pazienti che hanno sintomi, anche sintomi di media intensità assistenziale e dobbiamo creare delle strutture di residenziali di alloggio dove tutti i positivi possono essere così isolati. Non solo all'inizio della sintomatologia e monitorarli se ci sono degli aggravamenti, ma dobbiamo anche mettere in queste strutture quei pazienti che una volta dimessi dagli ospedali, perché non hanno più una sintomatologia importante, sono ancora portatori, perché non dimentichiamo che in alcuni pazienti la persistenza del virus si ha anche per due settimane dopo la guarigione clinica, perché un conto è la guarigione clinica e un conto è la presenza del virus. Quindi questi pazienti se non possono essere isolati a livello domiciliare, perché non tutti hanno case, con stanze e col bagno all'interno delle camere, la possibilità di tenerli distanti dagli altri familiari. Quindi questi pazienti andrebbero gestiti in questo modo. E dobbiamo, proprio perché dobbiamo impedire che si accenda il grande fuoco, il grande incendio come quello che c'è stato nel nord, dobbiamo in questo momento potenziare la gestione delle cure territoriali. Quindi medici di famiglia, medici di prevenzione, specialisti ambulatoriali, devono creare questi gruppi che noi chiamiamo USCAT, di unità territoriale. Possiamo chiamarli come vogliamo, però sono dei gruppi di team di intelligence che vanno a cercare il virus e contenerlo in modo da evitare che possa ripartire questa epidemia anche a livello regionale. Questo sarà molto importante, perché questa strategia di spegnere i piccoli fuochi ce la porteremo avanti per qualche mese, perché ancora la situazione di immunocompetenza della popolazione non è ancora elevata. Vi dirò che a questo fine di studio e di circolazione del virus si sta cominciando a introdurre una sperimentazione che dovrebbe essere approvata del dosaggio quantitativo degli anticorpi, che è ben diverso dallo screening rapido. Ci spieghi bene questo passaggio, perché magari c'è un po' di confusione. Sì, allora intanto spesso si parla di test rapido, ma test rapido è un aggettivo. Quale test rapido? Perché c'è un test rapido da tampone e quelli sono quelli che stanno utilizzando ormai anche in alcune regioni del nord, hanno utilizzato negli Stati Uniti, in Cina. Sono test che permettono di accelerare la procedura che invece di amplificare il virus lo vanno a identificare in modo rapido e comunque vanno a identificare il virus, quindi ci danno la certezza che questo paziente sia o malato o portatore. Questi sono test rapidi per ricercare il virus. Poi ci sono i cosiddetti test rapidi che noi stiamo ancora valutando per il loro significato clinico e per le loro capacità, perché quant'è che un test è buono? Quando ci individua tutti i pazienti positivi. Se un test non ci individua i positivi, non va bene per fare uno screening. Anzi, noi preferiamo che un test ci dia anche dei positivi in più, fra le due, piuttosto che darci dei negativi falsi, perché è il negativo o falso che ci preoccupa molto. Allora, esistono, stanno uscendo sul commercio dei cosiddetti dosaggi sierologici, cioè da sanque intero centrifugato, quindi con prelievo di sanque dalla vena, che ci dicono la quantità di anticorpi che l'individuo sta sviluppando, che questo corrisponde al cosiddetto processo di acquisizione dell'immunocompetenza. Quindi noi vediamo la comparsa prima dell'anticorpo IgM e poi dell'anticorpo IgG. Questo ci dice due cose. Se l'individuo sta producendo un'immunità, quale sarà e qual è la circolazione del virus all'interno di una comunità? Potremmo farla negli RSA, potremmo farlo in alcuni ospedali dove c'è stata una maggiore incidenza. Potremmo farlo anche a livello, ad esempio, di un condominio dove abbiamo numerosi casi. Questo è molto importante perché potremmo, sulla base poi di questo studio che necessiterà, secondo me, di parecchi mesi, vedere per l'autunno quante persone sono già immunizzate, perché anche quando ci sarà un vaccino noi dovremmo utilizzarlo nelle persone che non sono ancora immunizzate, cioè dovremmo proteggere quella fascia di popolazione che non ha ancora acquisito l'immunocompetenza. Questo è il ruolo dei test sierologici, però si fa ancora molto confusione. Poi abbiamo i famosi test capillari, per i quali noi non siamo ancora convinti che tutti possono essere utilizzabili, perché molti di questi test, come ho già detto, potrebbero dare soprattutto falsi negativi e sono test che non ci danno la quantità degli anticorpi che uno ha sviluppato. Quindi non vanno bene per vedere se uno è diventato immunocompetente. Sono test di allarme, sono test molto generici, perché dopo l'effettuazione di questo test andrebbe comunque fatta la sierologia per dosare la quantità e andrebbe fatto anche la ricerca del virus, perché altrimenti non sappiamo, perché sono cosiddetti test qualitativi, cioè sono test qualitativi come il test di gravidanza, positivo o negativo, non ci dicono altro. Allora piuttosto che bruciare risorse nel fare cose che non ci aggiungono informazione, è meglio seguire il canale istituzionale, le strutture accreditate per fare questi test che sono i laboratori di analisi clinico-ospedaliere e le competenze mediche e biotecnologiche. Questa è un po' la riflessione che si sta facendo, che purtroppo dobbiamo capire che in momenti così drammatici possiamo avere situazioni abbastanza, diciamo, tra virgolette extra istituzionali, cioè c'è la pressione commerciale che ci può essere in questi momenti, sia nei dispositivi che nella diagnostica, è talmente elevata che va fatto un filtro e va fatta una validazione di quello che noi utilizziamo, insomma. Questo è un po' il scenario. E' saustivo, ecco, all'accendere al discorso che ha fatto lei, si parlava di dispositivi, si parlava di dotazioni, eccetera. Nella popolazione c'è preoccupazione per il dopo 13 aprile, come cambierà la vita, nel senso, sarà bene comunque uscire, se si potrà uscire, magari dotandosi di dispositivi di protezione individuali, mascherine, eccetera. Ci sarà facilità di approvvigionamento. Ecco, cosa ci troveremo di fronte, insomma, nelle prossime settimane? Dopo il 13 abbiamo due necessità. Cominciare a capire quali sono le piccole attività quotidiane che possono riprendere. Dobbiamo capire come far ripartire un po' l'economia, ecco, ma lo dobbiamo fare seguendo alcuni criteri che dovranno rimanere solidi, cioè il distanziamento e la protezione. Quindi alcune attività produttive, adesso dovremmo sentire un po' le parti datoriali, anche per capire le situazioni che esistono nelle varie attività produttive. Faccio un esempio. Se uno è un artigiano, un calzolaio o un piccolo artigiano e lavora da solo, dovrebbe poter ricominciare a sviluppare queste piccole attività che poi sono molto prevalenti ancora nella nostra nazione, ma a livello anche della nostra regione. Quindi attività artigianali, penso a un'officina meccanica, penso a un elettrago, penso a una serie di piccole attività e penso ad esempio a una ristorazione da sporto, che potrebbe anche questa essere una prima forma di ripartenza. Cioè ci dovremmo abituare ad esempio a prendere del cibo e poi non consumarlo insieme. Poi ci sono anche attività che fanno parte della filiera, oltre che industriale, della filiera alimentare. Questo è il periodo, la stagione che cominciano un po' di ortaggi, le fragole, una serie di attività. Ci sono attività che hanno necessità anche di riprendere. Perché? Cosa ci dicono questi grandi coltivatori? Che hanno problemi di trovare operai o di trovare... La mano d'opera. La mano d'opera purtroppo ci dicono questi qui che spesso gli stagionali venivano dal Pakistan o dall'India. E quindi hanno il problema che stanno per buttare milioni e milioni di euro di ortaggi, i fiori. Il problema del blocco delle onoranze funerarie. Quindi questi fiori che venivano prodotti a livello italiano, l'export dei fiori, non hanno chi li raccoglie. Naturalmente bloccando noi porti e aeroporti queste persone non possono neanche arrivare in Italia. Quindi c'è anche questo grande problema. Quindi la ripresa dell'economia va fatta andando a clusterizzare settore per settore e dare, utilizzando il medico competente, cioè il medico che affianca il datore di lavoro in base alla legge 81, stratificare il rischio, vedere anche quelle persone che si sono ammalate e che comunque dovrebbero rientrare in alcuni ambiti la certificazione dell'avvenuta guarigione attraverso i due tamponi. Quindi dobbiamo disegnare queste strategie per cominciare a ripartire come economia. Noi come cittadini, quello che pensiamo è che dobbiamo ancora mantenere l'abitudine del distanziamento e l'utilizzo di mascherine. Mascherine che non devono essere quelle chirurgiche, sono le mascherine filtranti. Grazie a Dio ho saputo che, e l'abbiamo anche autorizzato, che la nostra fata era cominciata una produzione molto importante di questi dispositivi. Ma io devo dire che qualsiasi strumento di protezione, anche artigianale o comunque qualcosa che blocchi la trasmissione, abbia un grande potere di riduzione della possibilità di trasmissione della carica infettante. Non dobbiamo pensare che si possa tornare come prima in poco tempo. Ci vorranno queste strategie di piccola ripartenza e di mantenimento di queste abitudini, perché è facilissimo riaccendere Focolai. Non ci dimentichiamo come è partito il Focolai in Lombardia e come poi si è steso in pochissimo tempo. Anche perché i Focolai Lombardi, fino adesso i Focolai Lombardi hanno sotto certi aspetti risparmiato Milano. Voi sapete che se Milano riparte il Focolai a Milano, quello che può succedere è una popolazione notevole. Per chiudere, dottor Damario, io un accenno lo farei sulla sperimentazione di farmaci, se lei ha dei feedback rispetto a questo tema, che per esempio in Abruzzo a Pescare, a Chieti sono partite delle sperimentazioni. Allora, diciamo che ci sono ormai sperimentazioni come sempre di carattere istituzionale che sono rivolti ai cosiddetti farmaci immunosoppressori, ce ne sono alcuni in valutazione anche AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco. So che queste stesse aziende che hanno partecipato a livello nazionale hanno contribuito a dare all'Abruzzo alcuni di questi farmaci a scopo compassionevole si dice, perché prima della sperimentazione nazionale. Sono farmaci essenzialmente immunosoppressori perché si è capito che questi grandi danni che fa il virus sono dovuti al cosiddetto fuoco amico, alla risposta che ha il nostro sistema nella difesa. Questa risposta è talmente importante che in alcune persone è distruttiva, cioè distrugge cellule, distrugge attiva sistemi di coagulazione. Questo ci sta facendo fare parecchie riflessioni perché noi ci siamo molto preoccupati all'inizio degli immunodepressi, però stiamo vedendo che alla fine forse se uno ha un sistema immunitario non molto responsivo, forse è più protettivo di chi ha un sistema immunitario. E quindi questo è una malattia nuova, stiamo anche noi studiando, vediamo che si ammalano di meno quelli cosiddetti immunodepressi rispetto a quelli che invece sono immunocompetenti. Per lo meno si ammalano, però possono avere effetti meno importanti. Quindi stiamo anche vedendo che chi si è vaccinato con l'influenza, pur se si ammala, ha degli effetti meno importanti dal punto di vista clinico. Quindi pensiamo pure, come a livello nazionale, di incentivare per la stagione invernale prossima, per l'autunno, la vaccinazione antinfluenzale, perché oltre che a ridurre la quota di persone che presentano sintomi simuli e quindi danno anche un impegno a livello diagnostico, ci può dare maggiore garanzia di copertura delle persone anziane. Quindi tutti gli ultra 60 e 50 si dovrebbero tutti vaccinare per fine settembre. Quindi questo è molto importante. Dal punto di vista dei farmaci stiamo vedendo anche alcuni studi, ma sono ancora sperimentali, anche se c'è un arruolamento in AIFA, che alcuni cosiddetti farmaci antimalarici derivati dalla cloropina, se dati precocemente, cioè ai primi sintomi, possa ridurre l'evoluzione nella fase critica. Questo è molto importante perché è un farmaco che costa pochissimo, meno di un euro come farmaco. Quindi se questi risultati ci dimostreranno questi primi approcci che si stanno avendo a livello in vitro, quindi non ancora validati in vivo, potrebbe essere questo un farmaco molto importante di cui c'è anche una buona disponibilità. Il vaccino, come abbiamo detto, ormai c'è una corsa al vaccino, varie nazioni stanno lavorando su questo fronte. C'è anche un gruppo di italiani, oltre che a quelli diciamo i classici gruppi di studio che si trovano negli Stati Uniti. Siamo abbastanza ottimisti, però come vi dicevo prima, dobbiamo capire chi deve essere vaccinato, i tempi e chi dovrà essere vaccinato. Quindi questo è il momento per cominciare a capire e dobbiamo anche fare alcune valutazioni per vedere se questi anticorpi che noi andiamo a trovare nelle persone convalescenti possano essere protettivi e possono essere durevoli, perché sappiamo tutti che l'influenza, ad esempio dopo che passa l'ondata epidemica nazionale o annuale, ogni anno si ripresenta con caratteristiche diverse. Quindi si è immunizzati da una certa tipologia, ma non si riesce a evitare altre. C'è anche un'altra attività che stiamo facendo autorizzata proprio ieri come direzione generale della prevenzione, la possibilità di fare prelievi da persone convalescenti, cioè quelli che si sono ammalati hanno sviluppato delle immunoglobuline. Se noi andiamo a fare una feresi plasmatica, quindi allontanare queste globuline dal sangue di questi convalescenti, questo è stato affidato, questo studio a delle multinazionali che a partire da questi campioni di plasma stanno facendo le prime produzioni, sarà importante perché significa che potremmo avere delle immunoglobuline, immunoglobuline selezionate dai convalescenti come l'antitetanica, giusto per capirci, che potremo iniettare quando già iniziano i primi sintomi e quindi rallentare questa azione di devastazione clinica, perché veramente una polmonite così non si era mai vista nello scenario mondiale sanitario e dal punto di vista clinico assistenziale.